Il reparto tra l'altro di pediatria quest'anno è abbastanza affollato, diceva Dottor Nappini, questo perché c'è qualche virus un pochino più particolare in giro? Sì, in realtà sta iniziando un pochino l'influenza, qualche bambino in più delle settimane scorse è arrivato nel nostro pronto soccorso e nel nostro reparto insomma c'è abbastanza frequenza, direi molta di più di qualche settimana fa. Niente, un grazie particolare a Ilaria che è l'animatrice della ludoteca e che ha già ringraziato tutti e io non mi ripeto, ma un grazie molto particolare alla Tribù dei Nasi Rossi e al Corpo dei Vigili del Fuoco che ormai tradizionalmente a Natale ci fa questa sorpresa di portare regali ai bambini che hanno la sfortuna di essere regenti e la fortuna di partecipare a questo evento. In particolare un ringraziamento all'ispettore Buvioni che oltre a questi regali di Natale che ci ha portato ci ha promesso anche qualche cosa di più, per questo lo ringraziamo. Allora, che avete promesso? Senza tanti preamboli, i bimbi sono eccitatissimi, una promessa, qualcosa che deve arrivare, di sicuro. Grazie di tutto. E insomma, questo è un gesto bellissimo. Grazie, grazie. Grazie tanto.